Dopo il rally durato 4 mesi, veramente eccezionale, e il raggiungimento di molti valutazioni importanti dopo un dominio incredibile delle magnifiche 7, in molti fra analisti o persone come te, persone come me si sono interrogate e si sono posti il seguente quesito Ma ci troviamo in una bolla finanziaria? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale Cercheremo di rispondere assieme E siccome io invito sempre all'equilibrio e mai a sentirsi e depositare della verità assoluta al massimo comunque avere una strategia, una visione, sentirsi confidenti ma nulla di più vi voglio suddividere questo video, e ora vi vado a condividere lo schema al mio computer, in due parti quindi nella prima vediamo tutte quante le ragioni di coloro che sono molto negativi e che già stanno usando la bolla e il disastro imminente e poi coloro che invece comunque invitano una prudenza in tal senso cioè stiamo ben lontani dal 1929 e dal 2000 Inoltre alla fine del video vi andrò a dire cosa penso io che ovviamente vale niente ragazzi, è solo per chiacchierare ma so che magari alcuni di voi possono essere curiosi, anzi mi direte anche voi cosa ne pensate e poi vi racconto anche quello che sto combinando, come mi sto comportando e ovviamente prima di procedere vi chiedo un'iscrizione al canale e di lasciare un bel like per sostenere tutto quanto l'impegno che porto qui su YouTube Buona visione! Come promesso nella prima parte vediamo tutte quante le ragioni degli analisti che stanno gridando alla bolla invece nella seconda parte vedremo le ragioni di coloro che invitano la prudenza in tal senso Ora partiamo osservando quello che è il classico multiplo PE applicato al nostro benchmark di riferimento ovvero l'indice S&P 500 che fa un po' da riferimento quando ci rivolgiamo alle valutazioni, alle situazioni del mercato azionario uno di quelle più efficienti al mondo, almeno fino ad oggi Osserviamo come l'attuale multiplo sia elevato si trovi esattamente in quella linea di demarcazione fra la sopravvalutazione e l'estrema sopravvalutazione A colpo d'occhio si capisce anche come il secolo scorso abbia viaggiato a dei multipli ben inferiori rispetto alla historic trend line quindi a quella che è la media del mercato storica mentre nel nostro secolo l'indice abbia viaggiato ben al di sopra di quella media e più insiste in questi anni al di sopra della media e più la media storica stessa tenderà ad alzarsi questo è ovvio quindi noi non sappiamo se la normalità è quella odierna o è quella del passato sicuramente sono due situazioni molto diverse e ricordiamoci sempre il principio della regressione alla media e un'altra cosa sicura non sappiamo magari cosa significa ma è sicura è che viaggiamo comunque a dei multipli ben al di sopra di quella che è la media storica a dei multipli che in assoluto comunque sono importanti sono elevate, di certo non sono bassi spostiamoci ora sul Buffett Indicator il quale è stato creato ovviamente da Warren Buffett e va semplicemente a creare questa relazione stiamo vedendo un rapporto al numeratore ci mettiamo il controvalore totale del mercato statunitense quello azionario e al denominatore invece andiamo a inserire il GDP ovvero il PIL degli Stati Uniti d'America quindi basta andare a inserire due valori in trilioni di dollari e otteniamo il risultato 184 si pone in una zona molto elevata anche qui fra la sopravvalutazione e la sopravvalutazione forte estrema pertanto sta a indicare quanto la capizzazione di mercato sia elevata a livello storico rispetto al controvalore del PIL americano e perché è importante andare a creare questo rapporto? perché effettivamente il mercato azionario può nel lungo termine cerca di seguire adeguato a quello che è la crescita del PIL americano almeno questo è il principio da seguire anche se ho portato dei contenuti e dei video in cui vi ho dimostrato che per decenni, quasi a tempo indeterminato in alcuni mercati effettivamente non vi sia questa corrispondenza esatta quindi il mercato finanziario quindi l'azionario può andare quasi per conto suo rispetto all'economia reale però per quanto riguarda il mercato americano quindi anche la sua efficienza secondo molti vi è comunque una forte corrispondenza fra la crescita del PIL e quella del controvalore del mercato azionario quindi comunque prendiamo in considerazione questo aspetto ora io andrei a mostrarvi un indicatore che probabilmente nessuno di voi conosce ma diciamo in pochi lo conoscono diciamo così allora stiamo parlando di John P. Hasman quindi gestisce dei fondi e si dice che abbia predetto quindi abbia avvertito i suoi clienti gli investitori all'inizio proprio del 2000 e anche del 2008 della possibilità di un catastrofe imminente per quanto riguarda i mercati azionari quindi abbia individuato comunque prima degli elementi di bolla nel 2000 e poi nel 2008 tutti quanti gli elementi di una grave crisi finanziaria e ad oggi comunque sta attuonando di nuovo dei pericoli molto importanti quindi io non credo che sempre uno riesca ad essere un oracolo però lo stiamo sicuramente a sentire e poi vi sto mostrando la teoria o meglio le convinzioni le probabilità le ipotesi di coloro che sono molto allarmati e credono nella bolla ora andiamo a vedere un po' questo indicatore di Hasman va a mettere in relazione quindi va a creare un rapporto inserendo al numeratore la capitalizzazione di mercato non financial non finanziaria e al denominatore ci va a mettere il valore e bene i servizi delle corporate delle aziende non finanziarie e va a includere anche le revenues quindi comunque i fatturati stimati stranieri per chi non avesse capito è un indicatore un po' più specifico diciamo sofisticato particolare del Buffett indicator ma il principio è un po' lo stesso e troviamo dei rapporti dei numeri dei risultati veramente molto molto elevati pari a quelli del 1929 semplicemente sta indicando che il mercato è molto alto rispetto al valore che riescono a portare in questo momento le aziende nella loro produzione di beni e servizi mi sposterei poi e andrei a vedere anche qui quest'altro indicatore avete visto come vi ho parlato della massa monetaria della money supply nei miei canali molto spesso abbiamo visto la M2 poi ci sono anche altri modi di leggerla però come vi dico sempre la moneda della favola cambia poco è sempre la medesima qui stiamo osservando il profilo di X che è l'X Twitter di Game of Thrones no ragazzi bella la serie Game of Thrones ma in realtà questo è Game of Trades e ci va a far notare effettivamente come la riduzione della massa monetaria sia straordinaria cioè non la si vedeva praticamente da 100 anni così prepotente ed è un numero pari proprio a quello del 1929 quindi quello della grande depressione non significa necessariamente che si andrà a scatenare il medesimo scenario ma si vuole evidenziare come l'attuale periodo sia altrettanto particolare altrettanto straordinario non è un qualcosa di normale andiamo un po' poi a vedere un'altra situazione estrema che ha raggiunto gli stessi livelli del 1928 quindi appena prima dell'inizio del disastro ovvero l'inversione della curva del rendimento dei treasury americani avete visto la relazione molto importante fra i decennali e quelli a tre mesi non si era mai visto un valore così negativo sappiamo che quando le brevi scadenze cominciano a rendere molto di più delle lunghe scadenze davanti a noi poi si scatena sempre una recessione ad oggi questo indicatore per ora non ha funzionato si è portato addirittura a dei livelli profondissimi che non si vedevano da un secolo inoltre ha insistito a lungo cioè il perdurare il numero di mesi è altissimo è eccezionale e quindi questo è un altro campanello d'allarme per chi comunque studia i ricorsi storici inoltre andiamo qui su Isabelnet e vediamo un altro indicatore molto interessante di nuovo ai livelli del 1929 ovvero il peso specifico ok della top 10 in termini azionali all'interno dello Newstay stock market quindi mercato statunitense cioè quant'è il peso in termini di market cap di capitalizzazione di mercato quant'è la concentrazione rispetto alla top 10 del mercato stesso è il 75% non si vedeva questo livello dal 1929 in questo momento è anche più alto rispetto alla bolla del 2000 significa che la top 10 per dire dell'S&P 500 o comunque degli USA stock market a grande capitalizzazione pesa tre volte di più del restante 90% e quindi si parla di un problema di estensione del mercato e sono analogie interessanti anomale straordinarie di nuovo a livelli che non si vedono da 100 anni e poi tutti quanti noi sappiamo quello che è successo anche se io credo che in realtà ad oggi la situazione sia differente proprio il mondo attuale è estremamente diverso rispetto a quello del 29 e credo anche che siamo arrivati a questi livelli per altri motivi quindi non è detto che si andrà a verificare un 1929 davanti a noi sappiamo che abbiamo vissuto una pandemia sappiamo gli stimoli che ci sono stati perché c'è stato un aumento fantastico incredibile dei tassi di interesse e così via via dicendo inoltre sappiamo anche quali sono gli strumenti ad oggi a disposizione delle banche centrali ad oggi abbiamo valute fiat del tutto scollegate dal discorso dell'oro dal gold standard insomma è un mondo completamente differente adesso che abbiamo visto tutti quanti i pericoli da non sottovalutare che abbiamo visto dei rapporti veramente inquietanti cerchiamo di andare a interpretare i grafici questi che vi mostro alla maniera di coloro che dicono si va bene le valutazioni sono importanti degli indici ma attenzione freniamo non andiamo a dire stiamo nella buona del 2000 o stiamo nel 1929 ed ecco le motivazioni io praticamente ve le ripeto quindi ho letto tanto ho studiato ho ascoltato allora stiamo osservando con la linea rossa l'andamento delle magnifiche 7 quindi non vi devo ripetere quali sono google meta e le solite note ok queste grandi 7 big tech americane questo è stato il loro andamento in termini di rendimento negli ultimi tempi negli ultimi trimestri qualcosa di straordinario ed hanno trenato su il mercato infatti con la linea nera osserviamo l'S&P 500 e con la linea blu osserviamo l'S&P 500 escluso praticamente escluso il tech index quindi via il tecnologico via le magnifiche 7 e questo significa che comunque il mercato in sé non è caro se si estraggono queste aziende cioè comunque si viaggia tranquillamente in una maniera naturale non c'è nulla di così straordinario e è vero che quando poche aziende crescono tantissimo e vanno a trenare abbiamo degli scenari passati da studiare identici sono stati bolla 2000 sono stati 1929 eccetera però bisogna notare come effettivamente nel 2023 le magnifiche 7 abbiano visto delle crescite pazzesche straordinarie cioè lì dentro ci sono dei fondamentali guardate con le colonne azzurre il Q2 Q3 Q4 delle magnifiche 7 questi sono gli earnings la crescita degli utili è un qualcosa di spaventoso in maniera positiva è da small cap growth che sta facendo il miglior lavoro incredibile non da mega cap quindi sono stati risultati mostruosamente positivi inoltre ricordiamoci che nel 2022 venivamo da quotazioni depresse da un crollo comunque molto importante da un mercato severo in tal senso e viramento come io infatti alla fine di quell'anno dicessi ma a livello statistico spesso e volentieri dopo questi grandi crolli ci sono delle grandi riprese mai mi sarei aspettato una roba del genere ragazzi ma è sostenuta dai fondamentali quindi non è che il mercato è impazzito sembra impazzita una piccola parte del mercato che comunque riesce tra tanto sull'indice proprio perché ci sono state delle crescite in termini di utili incredibili questa è l'interpretazione di che dice sì è vero che non è sostenibile questo livello così non possiamo andare avanti così a tempo determinato sì è vero che è tutto quanto abbastanza caro ma non ci troviamo in bolla ci sono dei fondamentali dietro non possiamo urlare al 1929 la bolla del 2000 imminenti ora andiamo un po' che effettivamente era la bolla del 2021 si dice e infatti poi il 2022 è andata a sgonfiare 2023 c'è stata una grande ripresa ma accompagnata della crescita degli utili e cosa andiamo a leggere qui guardatevi il livello del 2021 se noi vogliamo vedere ad esempio i PE cose di questo genere i livelli di valutazione nel 2021 si creiamo altissimi ad oggi siamo ben al di sotto cioè ad oggi siamo ben al di sotto rispetto agli ultimi tre anni quindi non abbiamo vissuto una continuazione estrema dei multipli c'è stata una correzione poi c'è stato di nuovo un aumento ma accompagnato da fondamentali e quindi se poi noi andiamo addirittura a misurare un S&P 500 equal weight ragazzi non sta accadendo nulla di così sensazionale cioè è un indice che sta facendo il suo e che ha livelli che ha vissuto parecchie volte nell'ultimo decennio adesso andiamo a vedere ragazzi quando ci sono queste situazioni quelle attuali ovvero dei rally così imponenti così forti perché quello che stiamo vedendo negli ultimi mesi è un mega rally di quattro mesi fortissimo e guardate questa slide ci va a sottolineare come quattro mesi così potenti sono tipici a livello storico sono stati tipici di un rialzo post recessione o di una bolla quindi a voi lardo sentenza ad esempio guardate qui il 1975 livelli forti come quello di oggi sono stati c'era stata una recessione la recessione cosa provoca una depressione dei prezzi e quindi poi i movimenti più forti assolutamente nel mercato azionario seguono quelli più deboli cioè i grandi rally fanno seguito ai grandi crolli ecco perché si dice sempre ma non bisogna vendere a seguito di un grande crollo il mercato più ampio un indice come l'S&P 500 non bisogna farlo mai a quel punto se ce lo abbiamo ce lo teniamo anzi sarebbe il caso di andare a incrementare e di andarlo a comprare e l'abbiamo visto così nel 1982 lo abbiamo visto anche qui post grande crisi finanziaria l'abbiamo visto anche post covid quindi la pandemia aveva creato un crollo a febbraio marzo 2020 dopodiché la grande ripresa il grande rally 3-4 mesi imponenti però l'abbiamo visto qui nella bolla nella datcom bubble l'abbiamo visto non vedevamo da una recessione non c'era un rimbalzo e vi era una continuazione di un mercato già caro eravamo finiti in bolla quindi qui si va a evidenziare come se c'è tutto quanto questo questo rally così pazzesco ragazzi sono due le cose o stiamo andando verso la bolla o venivamo comunque da una recessione possiamo dire che venivamo da un mercato ribassista fortissimo nel 2022 e qui nel 2023 potevamo aspettarci un buon rialzo ma non sono molto giustificati gli ultimi 4 mesi anche se abbiamo visto dei fondamentali interessanti ecco qual è la situazione ecco qual è il dilemma però coloro che dicono ma no non ci sarà la bolla ragazzi non ci sarà uno scoppio vanno a sottolineare come sì ci possiamo aspettare perché lo stiamo attendendo una correzione ma dopo che ci sarà venuta una correzione classica quindi non un disastro meno 10 o meno 15% e saranno ci saranno tantissimi soldi pronti a entrare che non devono essere stampati o creati dalla fed ragazzi questa volta bensì sono già disponibili sono parcheggiati nei fondi monetari è probabile che anche voi abbiate degli strumenti uguali o equivalenti o simili ovvero che abbiate parcheggiato soldi o in fondi monetari o in obbligazioni in brevissimo termine un conti deposito o in conti correnti remunerati eccetera ovvero state tenendo ferma la liquidità perché l'attuale ambiente tasse di interesse è premiante magari qui in Europa un 3,5 4 circa un 4% lo strappiamo in America si strappa un 5% quindi capite bene che adesso il mercato è caro avere tanti soldi e lasciarli parcheggiare e vedersi un 5% con un'inflazione che poi è andata al di sotto per dire in America al di sotto del 5% tutto sommato uno è contento di lasciarli lì e quando il mercato potrà vivere una buona una forte correzione e mettete caso anche ci sarà un ambiente dei tassi eventualmente più meno favorevole e allora vedrete che questi soldi si potranno riversare nel mercato azionario e quindi si potrà andare a riprendere quello che vi voglio dire è che quando noi viviamo un crollo una correzione molto molto severa è pieno è pieno di soluzioni è pieno di opportunità è pieno di fonti di rubinetti che si possono aprire e ci si riversa il cash dentro quindi c'è questa possibilità ecco o per le banche centrali o perché effettivamente ci potrebbero essere dei soldi parcheggiati in questo caso stiamo parlando già di 6 trilioni di dollari presenti quindi io vi raccontavo un po' le visioni dei due pensieri chi è veramente negativo e chi tutto sommato vuole essere abbastanza positivo cioè è conscio in realtà di alcune criticità ma non vuole di certo gridare al disastro imminente e tragico stile 1929 ora adesso stacco ritorno al video e vi dico quello che penso io e quello che sto facendo ed eccomi qui a schermo come sapete ci sono dei momenti in cui su alcuni asset o su determinate dinamiche del mercato io mi sono sentito abbastanza confidente mi sono esposto ho detto la mia anche recentemente per quello poi vi vado a giustificare quelle che sono le mie intenzioni o quello che ho combinato sui mercati per quanto riguarda questo discorso specifico io so di non sapere della serie non posso di certo per vedere il futuro l'unica confidenza è che laddove il mercato a breve non ritracciasse e allora sì che andremo incontro per forza di cose a una bolla non è sostenibile poter crescere in questa maniera senza delle frenate senza delle pause significative senza delle interruzioni anche perché se non viviamo subito un'interruzione quando accadrà perché il problema non è se ma quando allora sarà veramente brusca severa e dolorosa quindi io mi auguro che presto ci sia detto ciò siccome mi trovo nella situazione di sapere di non sapere e non riesco a prevedere il futuro in tal senso io vi ho detto al di là di scelte del recente passato molto specifiche ad esempio l'obbligazionale orende lo metto in portafoglio l'immobiliare è andato malissimo e trasto ho cercato di insistere lì eccetera eccetera ho scelte che avevo fatto già in passato sul bitcoin ieri vi ho parlato dell'oro eccetera eccetera però mi sono costruito la mia asset allocation ben diversificata ben bilanciata pronta a cavalcare qualsivoglia evento quindi ho il mio peso obbligazionario simile a quello azionario in mezzo all'oro e me ne sto abbastanza tranquillo questo ovviamente lato portafoglio etf etc ho operato questa scelta e continuo anche un po' a incrementare ma rimanendo sempre ancorato a questa nuova asset allocation quindi me ne sto tranquillo è quello che sto facendo senza operare delle scommesse bene specifiche perché il mercato potrebbe rimanersene tranquillo potrebbe continuare a salire e allora ho la mia parte azionaria di certo non la vado a disinvestire cioè non ho tolto un euro da lì ho cercato solo di aggiungere il più possibile obbligazioni e oro per fortuna sono stato fortunato non è che i soldi mi sono giuditi dal cielo ho venduto degli immobili ragazzi però voglio dire ho potuto crearmi questo bilanciamento tramite l'immissione di nuova liquidità non ho dovuto vendere azionario e ovviamente ringrazio il cielo per aver avuto questa opportunità che poi mi sono creato perché non è che qualcuno mi ha puntato la pistola vatti a vendere un immobile è stata la mia scelta e quindi questa è la situazione e volevo un attimo andarvi a raccontare per l'appunto semplicemente quello che sto facendo e quella è la mia interpretazione quindi mettermi soltanto in quella condizione di sapere di aver fatto la cosa migliore possibile nella ricerca di un equilibrio del rischio rendimento di un'efficienza e di poter continuare a salire se il mercato sale ma anche a non andare giù con tutto il portafoglio laddove crollasse inoltre poi se ci fosse un crollo io opererei ovviamente un ribilanciamento potrei allora a quel punto laddove ancora di più si fosse rivalutato la parte obbligazionaria quella dell'oro andarmi a comprare l'azionario sfruttando quel principio di comprare quando scorre il sangue metaforicamente parlando per le strade che grafico che vedevamo prima lo sapete qui nel canale abbiamo attraversato due fasi critiche e io vi dicevo sempre per me questo è il momento di comprare quando ve lo dicevo nel 2020 ve lo dicevo alla fine del 2022 ve lo dirò anche quando vivremo il prossimo meno 30% insomma questo è ovvio bene ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti io vi do appuntamento a prestissimo e lo sapete nel frattempo vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti ciao ciao